per gli altri. Io dirò solo due cose minime insomma rispetto all'importanza di essere sempre in presenza per chi ci vedrà quindi nel futuro, sapere che esserci è veramente l'unico modo per poterci distinguere rispetto a tutto quello che ci ha contraddistinto fino ad oggi e che ci ha permesso di rimanere quello che siamo. Essere qui appunto tra amici con il benessere di Marco in questa splendida location è per me un onore come un onore introdurre appunto persone che per me sono state miti e rock star ecco della mia infanzia e quindi ecco ripeto una frase che ho già utilizzato in altre volte che non è neanche una mia frase che è la frase di uno dei più importanti cantautori italiani per me uno dei più grandi che è Giorgio Gabber che ci ricorda sempre che appunto la libertà è partecipazione quindi noi siamo qui per partecipare e per condividere tutto quello che portiamo con noi per un futuro migliore. Allora tutto comincia il mio libro su Omero nel Baltico, i segreti di Omero nel Baltico cominciano con le incongruenze della geografia omerica, sarò molto veloce per non rubare troppo tempo a chi poi vi era giustamente dopo di me. Gli antigreci sapevano che il mondo di scritto d'Omero nell'Ia dell'Odissea è affetto da grandissime incongruenze geografiche e non geografiche, per esempio il Peloponneso in Omero è pianeggiante e chiunque è stato nel Peloponneso sa che è pieno di montagne, fiumi che invertono il corso, battaglie che proseguono durante la notte, clima freddo e perturbato, eroi biondi intabbarrati in pesanti mantelli di lana eccetera eccetera. Perciò si è sempre pensato, si è sempre studiato a scuola, Omero è un poeta non un geografo, pretendete che da un poeta ci siano delle precisioni geografiche manco per niente e invece io mi sono accorto del fatto di questa teoria che poi è stata oggetto di vari dibattiti accademici e anche di libri accademici come la rivista di cultura classica e medievale che le ha dedicato un intero volume a suo tempo che tutte queste incongruenze della geografia di Omero si risolvono spostando lo scenario dell'Ilia dell'Odissea dal Mediterraneo dove è sempre stato messo all'Europa del Nord dove nel secondo millennio avanti Cristo fioriva una bellissima età del bronzo che a sua volta mostra convergenze significative con la civiltà micenea che appare in Grecia attorno al 1600 avanti Cristo. Perciò sia i poemi omerici sia anche tutta la mitologia greca sarebbero l'antica tradizione orale di un popolo di migratori nordici che sarebbero i biondiachei che una volta discesi nel Mediterraneo avrebbero trasposto nel Mediterraneo miti, leggende ed anche nomi di città come Atene, Tebbe, Micene che erano le antiche città di cui stavano su come New York, la York inglese che è stata trasposta nella New York, New Amsterdam, New Orleans e così via. Risalenti al remoto passato baltico-scandinavo da cui erano venuti. Insomma il mondo di Omero è precedente all'arrivo degli Achei in Grecia e poi i loro discendenti avrebbero trasposto tutte queste avventure nel Mediterraneo ma inizialmente stavano lassù e questo spiega tutto. Il punto di partenza è un'indicazione dello scrittore greco Putarco il quale mi ha messo sulla buona strada ormai molti anni fa dicendo che l'isola Uggigia, l'isola della Dea Calipso dove Ulisse rimase prigioniero per anni dopo la guerra di Troia, sta stranamente in mezzo all'oceano Atlantico, cioè completamente lontana da qualsiasi posto del Mediterraneo. Plutarco dice che più oltre si trovano altre isole, oltre l'isola Uggigia e dall'altra parte dell'oceano c'è il grande continente che circonda l'oceano. Come facesse a saperlo in realtà è oggetto dell'altro libro, I Misteri della Città Megalitica, in cui vedremo che in un'epoca precedente a quella degli Achei Omerici che già sono abbastanza antichi probabilmente c'è stata una civiltà globale, preistorica, antichissima, che poi è quella descritta da Platone quando parla di Atlantide nei suoi dialoghi, che globalizzò tutto il pianeta Terra migliaia di anni prima di quanto abbiano fatto poi gli spagnoli, gli inglesi, i francesi eccetera eccetera. Inoltre da quello che dice Plutarco si vede che questa isola Uggigia stava ad alta l'altitudine perché il sole d'estate per 30 giorni scompara la vista per meno di un'ora per notte, siamo vicini al circolo polare. Per dirla in breve facendo in fretta, si tratta, l'isola Uggigia era una delle isole Faroer che si trovano sperdute in mezzo all'Atlantico e ci sono tutta una serie di prove geografiche e non che, se qualcuno si leggerà il libro, qualcuno ha letto Omero nel Baltico sa quali sono, che Uggigia è una delle Faroer, in particolare, e questa è una cosa nuova rispetto al vecchio Omero nel Baltico, non è l'isola delle Faroer che avevo pensato prima ma in realtà essendo stato poi invitato quando è uscita l'edizione danese di Omero nel Baltico che è stato tradotto in otto lingue. Il governo faroese, bontà loro, mi hanno invitato per una settimana nelle isole delle Faroer, io sono andato a dare un'occhiata e ho visto che in realtà l'isola candidata ad essere l'isola d'Oggigia si chiama Nolsoi dove c'è un monte Ogoighi Ogoighi in realtà è uguale a Ogoigie nella lingua greca che vuol dire Oggigia in greco Ogoighi, l'antico nome è rimasto appiccicato al monte. Insomma per farla breve partiamo allora con la zattera di Ulisse perché Ulisse alla fine delle sue disavventure a Oggigia si riesce a costruire una zattera e l'Adea Calipso gli dà la rutta per tornarsene verso casa. In pratica lui si deve dirigere prima verso la terra dei Feaci, detta anche la Scheria, che si trova a est di Oggigia, questo viene detto chiarissimamente e poi dopo da lì i Feaci lo riaccompagneranno nella sua Itaca, che non è l'Itaca greca ma è un'altra isola che troveremo tra poco. Calipso gli aveva detto di tenere a sinistra l'orsa nel traversare il mare. Tenere a sinistra l'orsa che indica il nord significa andare sempre verso est e per 17 giorni navigò attraversando l'abisso, traduzione di Rosa Calsecchionesti che è stata la prima che ha creduto la mia teoria, grande traduttrice accademica dell'Iliade e dell'Odissea e mi ha fatto anche la prefazione al mio vecchio Omero nel Baltico. Navica per 17 giorni sempre dritto verso est, al diciottesimo apparvo i monti ombrosi della terra dei Feaci, era già vicinissima, sembrava uno scudo nel mare nebbioso. Il mare di Omero non è mai il Mediterraneo nella stagione della navigazione, è un mare blu brillante, è un mare oscuro oppure nebbioso oppure grigio talvolta, comunque è un mare che non ha niente a che vedere con il Mediterraneo. E questa terra Feacia che si alza dritta come uno scudo, cos'è? Sono le coste alte della Norvegia dove ci sono i fiordi, i fiordi norvegesi, dalle parti di Bergen, chiunque ci arrivi col vaporetto oppure in aereo vede queste coste alte. E beh di caso a quella stessa latitudine venendo dall'isola, dalle Paroer, trovi uno Schierie Amna che sarebbe il porto di Scheria. Questo me l'ha indicato un amico mio che era stato lì, io non me ne ero accorto, perché io vi dico solo la ventesima parte di quello che sta scritto nel libro, però altre cose me le hanno dette anche amici miei, persone che hanno viaggiato, hanno trovato, perché usando quel mio libro come Bedekker hanno trovato dalle cose che io naturalmente non potevo sapere tutto e continuano a sapere tutto, molte altre cose poi usciranno fuori. Ulisse poi viene spinto da Borea, il vento del nord, verso sud e in effetti qui la costa della Norvegia va da nord a sud e c'è sempre i fiordi, cioè in pratica le coste alte finché nel sud della Norvegia non si arriva a un punto dove si può approdare perché la costa si abbassa e questo è il fiume Fighio, che ricorda il nome dei faiekessi greci, ovvero Feaci, questo fiume Fighio dove praticamente Ulisse viene aiutato ad approdare da cosa? Dalla marea perché il fiume si inverte perché il mare allaga l'estuario, come accade nell'Atlantico dove l'alta marea ogni sei ore allaga l'estuario del fiume, cosa che nel Mediterraneo non avviene praticamente mai. A questo punto i Feaci dove lui arriva ben accolto eccetera eccetera, anche Nausica si vorrebbe sposare con lui ma poveretto lui poverino, inseguito da donne a chi dare i resti, preferisce scapparsene via per tornarsene da Penelope, insomma e in questa occasione viene descritto come è fatto l'arcipelago d'Itaca, cioè le isole che stanno attorno a Itaca è come Itaca è messa. Questa descrizione dell'arcipelago non ha niente a che vedere con l'arcipelago di Itaca del Marionio, è una delle tante prove che il mondo di Omero non stava nel Mediterraneo perché l'arcipelago di Omerionio non ci azzecca niente, né con questa né con tutte le altre descrizioni coerenti con questa che si trovano nel resto dei poemi omerici. Per esempio Dulichio che in greco significa l'isola lunga, Dolikos o dire lungo, è introvabile, non c'è, tra poco la vedremo da un'altra parte però. Ecco invece nel Baltico vicino alla Scheria, la terra dei Feaci, se vedete un pallino bianco in basso a sinistra, lì dove c'è il cerchietto trovate un'isola lunga in un arcipelago. Questo arcipelago, quest'isola lunga, che vedi caso è un arcipelago danese e si chiama Langland, l'isola lunga, Long Island, la traduzione dal greco antico al danese di Dulichio, Dulichion in greco, l'isola lunga, Long Island in danese, è l'unico arcipelago in tutto il pianeta Terra che corrisponde esattamente a tutto ciò che dice Omero e che Omero conferma in tutti i due libri che ha scritto, Ilia e Odissea. Ma non solo, se uno va a vedere, talvolta Omero si mette a fare il ragioniere e qui per esempio lui dice che da Dulichio arrivarono 52 pretendenti alla mano di Penelope, che ormai, dato che il marito non veniva da 20 anni e dato che lei era una ricca ereditiera, perché era la regina di Itaca, se uno si accasava con lei, infatti tutti i molto più giovani di lei, andavano lì, si facevano, scusate il termine, tutte le servette della reggia, però intanto speravano di sposarsi la padrona di casa che era come la loro madre, più o meno, infatti erano tutti coetanei di Telemaco, però insomma sarebbe stato, era un bel partito insomma la fanciulla, da Dulichio arrivano 52 pretendenti, da Same 24, da Zacinto ne arrivano 20, mi è venuto in mente in questo forse, ecco sono un po' ingegnere veramente, ho pensato di confrontare questi numeri con le superfici di quelle tre isole che corrispondono a Dulichio, Same e Zacinto, cioè Lang, Landero e Tosingo che sono in Danimarca e c'è una straordinaria corrispondenza geometrica, cioè praticamente sono in proporzione praticamente aritmetica, le superfici delle tre isole, i numeri di pretendenti che arrivano da ciascuna isola e questo dà la conferma che siamo veramente, questo è l'arcipelago giusto, ecco, infatti insomma questo è l'arcipelago Lang, Land eccetera eccetera di questo arcipelago della Danimarca, nel Mar Baltico vi è praticamente solo questo, ecco, e poi l'isola più occidentale di questo arcipelago che dovrebbe corrispondere ad Itaca secondo quello che dice l'Odissea, che adesso si chiama Lio, Lio in danese, corrisponde perfettamente a tutte le indicazioni come erodà su tutti gli spostamenti che il povero Ulisse fa avanti indietro per tutta l'isola, ciò si può ricostruire esattamente tutta la geografia dell'isola basandosi su ciò che dice Omero, ecco, vedete tutti i dettagli di ciò che Omero dice, la pietra del Corbo, la capanna del Porcaro, il porto di Forchis, corrisponde tutto, mentre invece sull'Itaca del Marionio non corrisponde niente, tanto per essere chiari, per cui per esempio questa strana Itaca danese è bassa, ma anche aspra, perché non è una pienura padana, è tutta sbruzzolosa, io che me la sono girata con mio figlio in bicicletta, vi assicuro che non essendo un grande ciclista, infatti non ho fatto il giro in Italia, da non stare lì a correre adesso, stare lì all'Euro a andare in giro, invece sto qua, praticamente vi assicuro che non è stato facile, ecco la pietra del Corbo presso la capanna del Porcaro Eumeo, lì avevo qualche anno di meno, invece la pietra del Corbo era antica già allora, perché si chiama pietra del Corbo? Questa è un'altra cosa che mi ha suggerito un altro amico, che poi tra l'altro è Michele Geraci, che praticamente è stato viceministro al tempo del 2018 col governo giallo-verde, e praticamente loro sono appassionati di questa cosa, erano andati lì e si sono accorti che guardando quel dolmen da un'altra parte, si sono accorti che la pietra che sta sopra, che in genere è dritta e orizzontale, è tutta schimbesciata, è tutta, è come la torre di Pisa, sta messa per storto, e che sembra in effetti un corbo che sta beccando per terra, ecco perché Omero la pietra del Corbo, perché questa particolarità per cui gli è venuto male il dolmen, insomma, come quelli della torre di Pisa che gli è venuta per storto e poi per loro fortuna, perché se fosse dritta non ci andrebbe nessuno, e invece è così, per cui l'Itaca la bagna sempre la pioggia, la guazza, è chiaramente un'isola danese, non è un'isola greca, infatti a Itaca c'è freddo, non c'è mai il sole, pur essendo nella stagione della navigazione, siamo nella stagione della navigazione e non c'è mai una volta ad Itaca in cui si sente un sole che scalda, e questo vale per tutti i poemi omerici, cioè in pratica non abbiamo niente a che fare con il Mediterraneo, il tempo è sempre brutto, per cui anche gli eroi omerici, anche al chiuso stanno sempre abbigliati con tunica e mantello, cioè stanno sempre vestiti pesanti, questo perché siamo nel nord Europa, e addirittura il mantello di Nestore a Troia è doppio grande di sopra l'anafolta saddenza, traduce calzecchionesti, io tradurrei è un montone rovesciato, cioè stavano sempre vestiti pesanti questi qua, il tempo è sempre freddo e perturbato in tutta l'ilia dell'odissea, e questo è sempre stato un grande cruccio per gli commentatori, se non mi dite che Omero non capisce niente, perché la Grecia mica è questa. Era il periodo del cambiamento climatico. Ecco appunto, poi c'è il biondo e Ulisse, tutti pensano che sia moro perché furbacchione, imbroglione, un po' marpione, molto razzisticamente, invece è biondo e lo viene detto due volte nell'odissea, non è mai moro, d'altra parte i biondi vichinghi che combatterono contro i nostri antenati nel nord Italia, erano dei super farabutti terribili che facevano porcherie immense, perciò non crediate che fossero così dei gentleman come soli i posteri, ma Pindaro menziona anche i biondi danai, spesso citati da Omero e potrebbero essere, che sarebbero i greci di allora, di quell'epoca, danai sono i danesi, che corrispondono in effetti alla localizzazione che è stata data, questa è la copertina del libro danese che mi è uscita qualche anno fa, vicino a questa strana ita cadanese che come vedete sta nella parte bassa a sinistra, vedete l'Io Ero Langland, l'isola lunga, c'è la grande isola di Shelland che corrisponde al Peloponneso Americo, ma in greco il Peloponneso vuol dire isola di Pelope, ma l'isola di Pelope non è che è un'isola, è una penisola, questo già dice che non è l'originale, hanno appioppato il nome di isola a una cosa che invece era una penisola, era un'isola quando stava in Danimarca, quando quelli sono arrivati in Grecia invece, si sono dovuti trovare con una penisola, hanno chiamato Isola lo stesso, per di più il Peloponneso Americo è tutta una pianura, invece il Peloponneso Greco è pieno di montagne, quando il figlio di Ulisse, Telemaco, viaggia con un carro da Pilo a Sparta, fa una corsa velocissima in una pianura ferace di grano, viaggia da Pilo a Sparta, guardate voi viaggiando da Pilo a Sparta in Grecia bisogna attraversare la catena del taggeto messa per traverso e bisogna valicare duemila metri d'altezza, mo c'è un'autostrada che arriva sotto, vi immaginate volete a Del Bronzo con un cocchio, col cocchio che si poteva fare una cosa del genere, cioè non esiste, per questo dice Omere un poeta non è un geografo, perché in Grecia non torna nulla, ma invece nel nord Europa dove c'era veramente la pianura tornava tutto, e poi anche il fiume Alfeo, secondo l'Iliade scorre largo per la terra dei Pili, in un solo verso, guardate ci sono due assurdità geografiche, perché non è largo ma sembra il Grand Canyon del Colorado, perché scorre, l'Alfeo greco scorre tra i monti dell'Arcadia incassato, perciò non è largo, per la terra dei Pili se guardate la mappa, l'Alfeo sta, la sorgente a nord-est del Pilo, e non si dirige verso il Pilo, ma invece va verso nord, perciò non ci azzecca niente col Pilo, in un verso due boiate pazzesche in campo geografico, ma non era colpa di Omero, ma di tutti quelli che per più di duemila anni hanno creduto che Omero fosse ambientato in Grecia. Ecco, invece il reale Alfeo omerico è il fiume Suso, che è il fiume danese dell'isola Shelland, che è il più grande di Shelland, che scorre lentamente nella grande pianura dell'isola Shelland, che è il Peloponneso Omerio, anche se qualcuno di voi magari il greco non l'ha fatto, ve lo dico in greco perché c'è l'esametro che sembra proprio, voi vedete questo fiume Alfeo, l'Alfeo che scorre largo per la terra dei Pili, in italiano non dice niente, che sentite in greco, Alfeiosteure Epidion di Agaies, vi ricordate anche le Berrifine con il Mississippi che scorre lentamente nella pianura dell'America settentrionale? Ecco, la sensazione di questo mondo antico, arcaico in cui scorre lentamente questo grande fiume viene dato proprio un effetto sinestetico da questo verso bellissimo dell'Iliade. D'altra parte il carro solare di Trundol, in Danimarca, come dice il professor Marcelot, che è professore d'archeologia preistorica all'Università di Liegi, che è sempre seguito con molta simpatia le mie cose, che mi ha sempre appoggiato molto, sembra materializzare un mito identico al mito greco di Apollo, infatti Apollo per i greci era il dio iperboreo, quello venuto dall'estremo nord, era il dio del sole venuto dal nord, ma Troia non fu trovata la Schliemann nel sito di Starlick in Anatolia, domanda che fanno tutti, questo è il bello. Molti studiosi negano che Troia fosse in effetti a Easterlick, all'inizio hanno avuto un grande entusiasmo, ma se uno va a vedere non azzecca niente, lo stesso Schliemann ha avuto gravi problemi perché lui diceva sì che in effetti era il vecchio sito di Troia, ma in realtà non quadra nulla, per cui i vari studiosi attuali, dal famoso Moses Phil, il professore Erte, il professor Kolbe, l'Università di Tübing eccetera, dicono ma guardate che proprio il sito di Starlick in Anatolia dove si dice che quello turco dove dice c'è Troia non c'entra niente, è una città forse ittita o preittita ma certo niente a che fare con Troia, d'altra parte i recenti studi geologici hanno mostrato che durante l'età del bronzo il mare arrivava fino ai piedi della colina di Easterlick, invece la Troia omerica, da tutto quello che dice Omero nell'Iliad è lontana dal mare, perciò proprio veramente non c'è, non azzecca, allora la vera Troia cantata da Omero, scusate, uno parla della vera Troia, dice chissate che sta a parlare, ragazzi, comunque la Troia omerica per trovarla bisogna andare a cercare il largo e l'esponto, anche questo è un problema perché Troia stava sul largo e l'esponto, ma la Troia di Schliemann sta sull'ellesponto che è quasi un fiume perché è uno stretto redardanelli che proprio perché è uno stretto è stretto, invece Omero dice addirittura che l'ellesponto è infinito, insomma alla fine facendo una serie di discorsi che trovate tutti nel libro, ma che non posso stare fino a domani mattina a raccontarvi che poi non ce ne frega niente a nessuno, diciamo che il largo e l'esponto è il golfo di Finlandia e inoltre si vede che Troia si trova sul versante nord di questo mare, si trova dunque in Finlandia e non in Estonia e andando in quella zona nord lì vediamo che ci sono dei nomi di località, dei toponimi, che ricordano i nomi, quando sono stato lì, i nomi degli antichi città che si trovavano attorno a Troia, Ascainen, Ascani agli Ascani, Chicoinen, Iciconi o Kikones, Tenala o Tene, sarebbe Tenedo, c'è un'incredibile padva e ricordiamoci che i Veneti erano alleati dei troiani e in effetti Plinio e Tacito dicevano che i Veneti venivano dalla Finlandia, perciò essendo alleati dei troiani dobbiamo stare lassù, si è sempre pensato che invece venissero all'Asia minore perché erano alleati dei troiani e si pensava che Troia fosse in Asia minore, ma era un errore, c'è una padva che ricorda Padova, infatti Padova secondo il mito di fondazione fu fondata da un principe troiano che era scappato e arrivò a Padova. Bene, comunque questi sono solo alcuni dei nomi di località della parte sud-ovest della Finlandia che corrispondono a nomi greci riportati da Omero, stanno tutti a ovest di Helsinki, a est di Helsinki invece non c'è nulla. Infine al centro di questa zona troviamo una toia, a parte il nome che evidentemente ricorda il nome di Troia, ci sono due fiumi lì che tutti e due stanno esattamente collocati come Omero dice, perché Omero è precisissimo per descrivere gli spostamenti, le truppe, quelli che vanno di qua, che guardano di là e tutto corrisponde a questa diciamo sistemazione di questo paese chiamato Toia che sta lì. Ecco, questo sarebbe l'erboso scamandro come lo chiama Omero, è un fiume che adesso si chiama Kurkenayoki in finlandese e corrisponde in maniera straordinaria alle precisissime indicazioni di Omero. Alle spalle di Troia è Colida, l'Iliade non descrive mai come una montagna, il monte Ida, non esiste questa parola in Liliade, è una zona di altra che sta alle spalle di Troia, un po' come i castelli romani vicino Roma, intanto è vero che i buoni finlandesi fino a due mesi fa stavano lì a fare sci e si vede proprio lo skilift che sta lì, che l'ho fotografato pure. Addirittura a qualche chilometro da Toia che sarebbe Troia c'è in direzione del mare una aiala, ma aialos in greco, in Omero, è la spiaggia dove gli Akei spiaggiarono le navi e fecero il campo fortificato davanti a Troia. Perciò il nome di aiala, aialos, è rimasto parparo come tanti altri. Adesso è interrata perché il mare adesso si è ritirato, ma in realtà si ritrova tutto quanto il layout per così dire di questa città preistorica. E poi c'è una prova provata, su cui gli studiosi si sono sempre impazziti perché c'è la più lunga battaglia dell'Iliade che dura addirittura su otto canti dell'Iliade su 24, cioè un terzo dell'Iliade dedicato a questa sola battaglia, che in realtà ci sono due mezzogiorni e una notte interposta. Dato che però nel Mediterraneo non si combatte mai di notte, gli studiosi si sono accaniti per cercare di comprimere tutto in una sola giornata facendo solo dei pasticci enormi. Invece a quella latitudine ci sono le notti bianche, cioè a giugno si può combattere anche di notte perché anche a mezzanotte e luna c'è un chiarore diffuso che permette di vederci. Il risultato finale è che praticamente questa battaglia dura in effetti due giorni, come dice Omero, e Omero si rivela sempre di più non solo grande poeta ma grande geografo. L'importante è metterlo al posto giusto e non quello sbagliato. Ecco, addirittura il nome che Omero dà a questo fenomeno, Amphilichenix, che vuol dire notte chiara attorno, questa notte chiara attorno, questa parola Amphiliche in tutta la letteratura greca non si ritrova mai più perché il fenomeno della notte bianca semplicemente non esiste in Grecia, si ritrova solo molti secoli dopo in un passo di Apollonio Rodio in cui parla delle argonautiche, in cui parla dell'Apollo Iperboreo perché i greci, che erano grandi navigatori, andati su e sapevano benissimo che le alte latitudini in effetti sia il fenomeno della notte bianca, come le notti bianche di San Pietroburgo insomma. E poi il giorno dopo della notte bianca c'è la piena dei fiumi e questo corrisponde al fatto che le piene stagionali dei fiumi nordici hanno luogo tra maggio e giugno, cioè quando ci sono le notti bianche, perché lo scioglimento dei ghiacci che alimenta queste piene avviene più tardi che da noi, invece noi la piena primaverile avviene verso marzo, aprile massimo perché le Alpe e gli Appennini si cominciano a squagliare il ghiaccio che si raccoglie un po' prima. Perciò vedete come tutto questo significa che la guerra di Troia fu un fatto storico, era anticipa di almeno mille anni l'inizio della storia dell'Europa, questa è la cosa più importante. La storia dell'Europa comincia attorno al 5-600 a.C. con Erodoto, invece con Omero risale a prima della civiltà micenea, questo è un pezzo di storia della pre-storia europea che risale almeno al 1600-17 a.C. lo vedremo meglio dopo, comunque nel territorio di Toia ci sono tumuli dell'età del bronzo che sono uguali a quelli descritti da Omero, la rotta della flotta Achea, gli Achei si radunarono con la loro flotta, le loro 29 flotte alleate, la loro nato per di allora, nella Baia di Aulide si fecero una sosta tecnica all'Emno e poi andarono a Troia, eccola qui, Aulide, Lemno-Troia, quello che dice Omero. Però questa cosa, se la mettiamo nella mappa della Finlandia e della Svezia, torna benissimo, in Grecia invece non funziona più per niente. In realtà Aulide è la Baia di North Alie, nella Beozia omerica, che non è la Beozia greca, è una regione che sta al centro della Svezia, attorno all'area di Stoccolma e corrisponde appunto a Stoccolma e invece sulla rotta degli Achei attualmente c'è un'isola, Lemland, che è il prototipo della Lemno, che poi questo nome venne riportato nel Mediterraneo e Lemland sta in effetti sulla rotta dei Vaporetti che adesso portano i ferri praticamente, che trasportano navi e passeggeri tra la Finlandia e la Svezia seguendo la stessa rotta che gli Achei avevano fatto 3 o 4 mila anni fa. L'isola di Faro, qui naturalmente sono solo alcune cose spot perché il libro è molto più lungo se no staremmo fino a domani pomeriggio, l'isola di Faro dove Menelao si fermò tornando dalla guerra, nel Mediterraneo sarebbe un'isola che sta vicino alla costa, invece Omero dice che sta in mezzo al mare, ha altra querella perché praticamente Omero non capiva niente di geografia, invece l'affaro di cui parla Omero è un'isola svedese che sta al centro del Baltico ed è la cinecittà di Invar Bergman, dove Invar Bergman fece i suoi film ed è morto e fu sepolto lì anche, la maggior parte dei film di Bergman sono fatti a Faro, che si usa a favore ma il nome è rimasto uguale e infatti anche lo stesso Omero parla delle foche che sull'isola di Faro a mezzogiorno salgono sugli scogli a prendere il sole, se lo facessero in un posto del Mediterraneo, per esempio in Egitto dove c'è la foca monaca, dopo 10 minuti vengono disidratate e con la pelle delle foche ci potete fare la cosa per pulire il parabrezza praticamente, per cui vedete come ritorna tutto, nel nord il rapimento di una regina è un casus belli, è un motivo di guerra, perché non veniva rapita una donna, veniva rapita la regina, perciò era giusto fare la guerra, infatti ci sono sia nel mondo nordico che nel mondo celtico, si trovano storie di regine rapite, grandi guerre interminabili e poi ce n'è un'altra di cui parleremo dopo, che sta pure da tutt'altra parte. In ogni caso, come dice il professor Pigott, che è stato ordinario in Inghilterra di preistoria, il suo bellissimo libro Europa Antica, Pigott è arrivato quasi a sfiorare questa mia idea, non so come mai, per mia fortuna non è arrivato a concluderla, perché è arrivato quasi al fondo, lui dice forse non si presta attenzione ai caratteri che il mondo americo condivide con quello degli eroi irlandesi del Beowulf, che sarebbe un poema trovato in Inghilterra, ma che in realtà è ambientato in Svezia, e delle saghe nordiche, alle spalle della Grecia micenea si stende l'Europa e non la, come si chiama, l'Atena Nera, come qualcuno ha detto, quelle sono tutte boiate pazzesche, ma lasciamo vero, andiamo avanti, analogie fra che e vichinghi, guardate il diciottesimo libro dell'Iliade, nell'infuriare di una battaglia dell'Iliade, quella famosa che dicevo prima, che dura un terzo del poema, la che era funesta, afferrava ora un vivo ferito, un illeso, un morto tirava per i piedi in mezzo alla mischia, veste vestiva sopra le spalle, rossa di sangue umano, la che era omerica è un altro che la valchiria, la valchiria nordica che porta nel balalla le anime dei guerrieri caduti, è l'antenata della valchiria, perché i vichinghi poi sono dell'anno 1000 dopo Cristo, qui siamo attorno al 2000 avanti Cristo, però come in un grande frizzero, un grande frigorifero nel nord le cose si conservano per millenni, ma addirittura il diome del dio marino omerico chiamato Aigion, che ha dato il nome al mare Egeo, Aigion vuol dire Aigion, corrisponde a Eger, il signore del mare nordico, dove l'erre finale è il segno nominativo del mare, ma ci sono molti altri esempi, perciò anche sistemi di relazioni sociali simili a quelli dei vichinghi, rapporti tra padroni e schiavi, interessi, stile di vita, il cibo, questi nordici omerici si rimpinsavano di carne di bue e di maiale e bevevano sia il vino chiamato oinos, sia un'altra cosa che viene tradotta pure come oinos, ma si chiama meti, meti non è altro che l'arice di med, che vuol dire l'idromele, che è la bevanda sacra dei nordici, per cui vedete come invece sulle menze degli Achei non appaiono mai nell'olio, nelle olive e nei fichi, che bei greci che erano questi, che non mangiano mai, si abbuffano le carne di maiale, di bue e cose del genere, esattamente come i nordici. Vi sono rimarchevoli convergenze tra le caratteristiche tecniche dei navi vichinghi e delle navi che è la chiglia piatta, la doppia pruva, l'albero smontabile, qui potremmo parlare mezz'ora, invece saltiamo subito al prossimo argomento, i carri da guerra come sono descritti molto bene, l'uso, il loro uso, il loro impiego nei combattimenti, nell'Iliade, non ha niente a che fare col modo di combattere dei popoli mediterranei e del Medio Oriente, l'hanno notato in tanti, ad esempio il professor Vidal Nache, grande omerista, tutto ciò che noi sappiamo del carro da guerra nel Mediterraneo Orientale, protesta contro questa visione, protesto, protesto dice lui, contro questa visione delle cose, invece il modo di combattere col carro da guerra di Omero coincide con quello che Cesare dice quando sbarca in Britannia, cioè nel Kent, nell'Inghilterra meridionale, e trova quegli energumeni di Britanni che combattono esattamente come gli eroi omerici, evidentemente l'insularità della Gran Bretagna aveva consentito fino all'epoca di Cesare di usare le modalità di combattimento dal carro come le usava Omero molti millenni prima, un metodo molto antico e però mette a disagio anche lo stesso Cesare e le sue truppe che non erano più abituate a combattere in quel modo, in realtà l'età del bronzo nordica si sviluppa fino a un'altezza mirabile che attesta l'alto tenore di vita dei suoi rappresentanti, l'arte della fusione raggiunta a una perfezione tale che solo le più squisite opere della civiltà micenea possono leggerle al confronto, dice la Treccani, in effetti se voi andate a Copenaghen che è una bellissima città, se avete cinque minuti per andare a vedere il museo nazionale ci sono le stanze dell'età del bronzo che sono piene di roba bellissima ma sono tutti oggetti muti perché nessuno ha conosciuto questi nordici, nessuno sa chi fossero, la storia dell'Europa anche dei vichinghi comincia attorno all'anno mille dopo Cristo, prima era tutto buio ma se noi adesso pensiamo che Omero è il testimone di un'età del bronzo nordica del 2000 avanti Cristo vedete che questa roba comincia a prendere la vita perché riprende la vita che gli dà Omero un poeta che è stato testimone oculare dell'età del bronzo nordica e poi trasmesso oralmente e poi messo per iscritto abbiamo l'età del bronzo nordica che ci si squaderna davanti agli occhi e che non è l'età del bronzo greca ma è venuta prima, capite che meraviglia? Cioè non è solo questione di dire che l'Iliade ha cambiato posto, è tutta la storia della preistoria che cambia aspetto. Ecco il disco di Nebra che è stato trovato una ventina d'anni fa in una zona della Germania del nord, nord est, vicino al Baltico è identico allo scudo di Achille, allo schema dello scudo di Achille. Il disco di Nebra è stato datato tra il 1700 e il 2000 avanti Cristo dunque prima dell'inizio della civiltà micenea in Grecia, lo scudo di Achille evidentemente risale alla stessa epoca, prima che i micenei, cioè prima che gli Achei scendessero in Grecia e fondassero la civiltà micenea che come vedremo tra poco in effetti ha enormi somiglianze con la civiltà nordica per chiudere il circuito. A Nebra hanno trovato anche due spade che sono identiche a quelle micenea in Grecia. Poi c'è la ricostruzione del mondo, nel secondo libro dell'Iliade, Omero racconta anche qui come proprio un, come dire, in maniera molto precisa, le 29 flotte Achille e una per una che partono per andare a combattere contro i troiani, dicendo di ognuno i comandanti, le navi, soprattutto le regioni e le città. Perciò in base a questo si è sempre provato a ricostruire il mondo di Omero in Grecia, ma spesso si salta di palo in frasca perché non è la stessa cosa. Per cui per esempio dopo Letolia si parla di Creta, ma vedete che i cretesi c'è la freccietta in basso, Creta stava in basso, Letolia stava nella Grecia centro-settentrionale, com'è che salta così? Se invece questo stesso giro glielo facciamo fare nel mondo nordico, tutto ritorna e soprattutto si riesce a ricostruire l'età del bronzo nordica dei tempi di Omero. Omero è un trattato di geografia e di storia perché ti fa vedere incredibilmente come una radiocronaca di 4.000 anni fa che ti dice prima c'erano questi, poi questi, poi questi, poi questi e uno seguendoli sulle coste baltiche riesce a ricostruire tutto il mondo di Omero, è un miracolo, ma ci si riesce facilmente. Infatti buona parte del libro è dedicata anche a questa ricostruzione, un caso per esempio che non stava nel vecchio Omero nel Baltico, uno nuovo, è enorme. Omero in certo punto parla di due città, Tarf e Tronio, che stavano entrambe sulle rive del Boagrio, cosa fosse sto Boagrio, era un fiume o un lago, non si sa, però Tarf e Tronios praticamente si ritrovano in Svezia proprio seguendo la sequenza del catalogo delle navi e corrispondono alla regione dello Smoland nella Svezia centro-meridionale dove c'è un lago Sommen e si trovano sul lago Sommen una a dieci chilometri dall'altra, già aver trovato Torpa e Tranas che sono Tarf e Tronios, lì è un miracolo di accidenti, è giusto, ma non solo, in questo lago ci sono leggende svedese che parlano di una specie di mucca selvaggia che praticamente scavò il lago in tempi remoti, ma questa mucca selvaggia non è altro che il nome del Boagrios che vuol dire la mucca o il bue selvaggio, perciò il nome greco del Boagrios corrisponde alla leggenda del lago Sommen in cui ci sono tutti i due toponimi che sono identici a quelli di Omero, questa direi che è una pistola fumante praticamente che dimostra sta cosa, l'Atene-Omerica, l'Atene-Omerica non era Atene la nostra, era il suo prototipo come Orlean e non è New Orleans, tanto per essere chiari, lo detto prima, stava sulla costa della Svezia meridionale dove attualmente si trova una città portuale di Karlskrona che corrisponde solo geograficamente perché Karlskrona è una città fondata nel settecento da Re Carlo, un Re Carlo svedese che non c'entra niente, però Platone quando nel Crizia parla dell'Atene dei suoi antenati, dice una cosa che sbalordisce anche lui, l'Atene dei suoi antenati non era la stessa sua, dice anche l'Acropoli stava tutta da un'altra parte, cioè era tutta diversa, ma perché Platone aveva scordato che l'Atene primordiale non era New Orleans, non era Orlean, o meglio Orlean, non era New Orleans, perciò lui stesso si è perso la notizia, ma essendo di buona famiglia, di famiglia ricca e antica, evidentemente aveva delle carte che mostravano com'era l'antica Atene dei suoi antenati che era quella svedese e questo ci dà le prove e questo ci dice anche perché il nome di Atene è al plurale, perché un'altra cosa curiosa è che le principali città greche hanno i nomi al plurale, Atene, Tebbe e Micene sono al plurale, Atene, col S finale, Atinae in greco, ma perché sono al plurale? L'unico nome di città greca al plurale che noi conosciamo e sta in Sicilia si chiama Siracusa, che però in latino e greco era Siracuse, Siracuse Siracusarum, se qualcuno si ricorda un po' il latino, perché? Perché Siracusa era fatta sulla terraferma e c'erano i sorti già davanti, erano le due Siracuse, quella della terraferma e l'isola davanti. Questo qui era tutti i territori che si trovavano vicini al mare, in mare come il Baltico che era pieno di isole davanti alla costa. Infatti l'Atene America era l'attuale cascrona e si trovavano ancora i toponimi antichi che si trovava sulle coste svedesi. Il Micene corrispondeva, questo me l'ha detto, me l'ha trovato il mio traduttore danese di Omero nel Baltico, con cui siamo molto amici diventati. Micene era Copenaghen, perché Copenaghen sta a cavallo tra una terraferma e l'isola davanti, l'isola Mager, dove hanno trovato resti antichissimi dell'età del Bronzo e infine anche Tebbe, cioè il nome a plurale, ma non è la Tebbe greca che non c'entra niente, il nome a plurale è perché Tebbe stava vicino a Stoccolma e Stoccolma sta su delle isole. Infatti c'era il Tebbano Tiresia, il nome di Tiresia, ricorda Tebbano, il nome di Tireso che è una spiaggia dove gli stoccolmesi vanno a fare il bagno. Pensate, ancora c'è il nome di Tireso che sarebbe l'antico Tireso, quello è un altro amico mio che lavora in Svezia che me l'ha segnalato. Un monile con spirali ioniche, guardate questo braccialetto meraviglioso, sono le spirali ioniche dei capitelli ionici, questo l'hanno trovato in Polonia di fronte all'Atene, sta dall'altra parte del mare nella Polonia settentrionale, di fronte all'Atene descritta da Platone. Per cui le volute dei capitelli ionici come quelle dell'ereteo di Atene sono doppie spirali che poi si può anche capire, questo lo dirò nel libro, il significato simbolico di questa doppia spirale perché corrisponde al Sarila lo scendere del sole nel cielo nel corto dell'anno, ma questo è un altro discorso sul libro. Comunque che gli ioni greci, gli Iaones, discesero dalla Svezia che poi fondarono Atene giù in Grecia. La Creta omerica in realtà non era Creta, che infatti gli studiosi hanno un sacco di problemi a dire che la Creta minoica fosse la Creta di Omero, invece era l'attuale Pomerania, cioè la costa meridionale a cavallo tra Germania e Polonia e dove torna tutto, in particolare c'è un miracolo, questa è un'altra cosa nuova che si trova nel nuovo libro. Gortina era una città svedese, cretese, che secondo l'Odissea si trovava su una falesia dove naufragarono le navi di Menelao a picco sul mare, con uno scoglio davanti alla spiaggia, questo lo dice Omero. La sua collocazione corrisponde in modo stupefacente all'attuale cittadina tedesca di Goren, situata su un capo all'estremità orientale dell'isola di Rugen, cioè della Creta omerica. Qui si trova a 300 metri dalla riva lo scoglio indicato da Omero, che ora è chiamato Buscam, tutte cose che trovate su internet. Cioè, a 300 metri della riva c'è lo scoglio davanti alla spiaggia di Goren, che era lo scoglio davanti a Gortina di cui parla Omero. E tutta la descrizione che lui fa della Gortina è come se lui avesse mandato una cartolina illustrata della Gortina di allora che si appiccica perfettamente alla Goren di adesso. Anche questo è un piccolo miracolo, no? Naturalmente tutta l'area, rappresenta molte tracce dell'età del bronzo. Lì dove c'è la casa del parroco, dietro c'è un dolmen del Neolitico. Insomma, è tutto, il presente e il passato si mescolano e con questa chiave voi capite tutto il mondo di Omero trasposto nel nord. Naxos, fra Atene e Creta, secondo il racconto di Teseo e il Minotauro, anche lì vi dedico molte pagine, Teseo va nel labirinto di Teseo, da Atene parte, va verso Creta, ammazza il Minotauro con l'aiuto di Arianna, se la porta, troppo rumore, si, si, già, se la porta diciamo verso Atene, poi non si sa come litigano, non so, c'è qualche storiella tra loro, fatto sta che la povera Arianna si ritrova a Naxos mollata lì. Bene, chi significa che tra Atene e Creta c'era l'isola di Naxos, senza andare a guardare qui, ma in maniera tutto indipendente, io sono andato a cercare Naxos tra l'Atene svedese e la Creta polacca e ho trovato un'isola chiamata Bornholm, lì dove praticamente gli americani hanno fatto saltare recentemente il gasdotto, il gasdotto, eroicamente, bisogna cambiare, se no mi suicido dalla finestra, io non mi trovo buttato dalla finestra e poi tutti sono un povero Vinci che si è suicidato, lasciamo vedere, l'isola Bornholm, comunque è quella lì, ecco, praticamente dove il porto più importante si chiama Nexo, Nexo è l'unico toponimo di tutto il Baltico e sta lì, nell'isola vecchia Naxos che in effetti è l'isola più ricca di età del bronzo di tutta la Danimarca, perciò vedete come tutto quadra in una maniera spaventosa, naturalmente chi si leggerà il libro troverà tutti questi dettagli, Zeus e la mitologia greca nel Baltico orientale, non sto a dilungarmi troppo, ma si trovano molte tracce della mitologia greca soprattutto nel Baltico orientale, nelle repubbliche baltiche, anche in Estonia dove si usi e io siamo stati alcuni anni fa con tanti amici, è stata veramente una bellissima esperienza con la Ulle Tode che è la Presidente dell'Associazione Italia-Estonia. Potete vedere il meteorite per Boreo è libero su Youtube, così un tanto felice si tossisse, e quindi sì, infatti è proprio tutta una cosa fatto con Carchello che ha raccontato appunto la mitologia, c'è anche il libro. Sì, secondo Bertrand Russell, che è Bertrand Russell, la civiltà micenica che appare in Grecia attorno al 1600 a.C. trae origini dai biondi invasori nordici che portavano con sé la lingua greca. Lo dice Russell nella sua storia della filosofia occidentale. Io ho anche messo una frasetta di Bertrand Russell, non avere paura di essere eccentrico nelle tue idee perché ogni idea oggi accettata è stata una volta considerata eccentrica. Almeno l'ha detto lui. Insomma, mi hanno preso per matto in tanti, ma forse un giorno penseranno che tanto matto non ero. Il Megaron, il grande salone dei palazzi micenei, è identico alla sala degli antichi e scandinavi, questo lo dice il professor Nilsson, grande accademico svedese. L'architettura micenea ha caratteristiche tipicamente nordiche e poi inoltre, secondo gli studi più recenti, il mondo miceneo presenta... Il mondo, la civiltà micenea, che direttamente non è altro che la civiltà degli Achei discesa dal nord, infatti i primi micenei che si trovano nelle tombe micenei sono dei cristoni alti in metro e ottanta, proprio nordici, questo lo dice anche questo Nilsson, presenta straordinaria affinità con l'età del bronzo nordica. Si trovano gioielli di ambra baltica nelle prime tombe micenei, adesso è proprio ambra baltica. Gli Achei quando scesero dal nord verso l'Egeo fecero il Dnieper, fiume che vent'anni fa lo conoscevo credo soltanto io per questi studi, adesso credo che purtroppo lo conosciamo tutti perché tutti i giorni i telegiornali ci parlano di queste tristi cose, su cui non ci soffermiamo, però in ogni caso hanno trovato sul basso corso del Dnieper, cioè dove adesso c'è proprio la guerra che è in furia, hanno trovato tombe affossa simili a quelle micenei, questo significa che praticamente venivano dal nord e anche i vari agli obbarechi che nel medioevo erano dei vichinghi svedesi che scesero dalla Svezia verso il Mar Nero, verso il decimo secolo dopo Cristo, anzi il nono mi pare, fecero esattamente allo stesso percorso, perché poi la storia viene dettata dalla geografia, gli uomini devono combattere col mondo in cui si trovano, una volta discesi nel Mediterraneo i migratori nordici trasposero i nomi della patria perduta nordica in quella che è l'attuale Grecia e così abbiamo avuto questa gran confusione che i nomi greci si ritrovano giù. Scusa posso chiederti una cosa, precisamente l'epoca, cioè questo passaggio quando è... Sì, allora la civiltà micenea nasce attorno al 1600 avanti Cristo, il che significa che se tutto quello che vi dico è vero, la guerra di Troia è stata prima del 1600, probabilmente del 1700 e del 1800, infatti avete visto prima che il disco di Nebra con le spade di Nebra risalgono tra il 1700 e il 2000, coincide. La civiltà micenea dura dal 1600 al 1100 circa, cioè circa 4-5 secoli, poi viene distrutta dall'arrivo dei Dori, si perde la continuità storica, infatti i micenei sicuramente sapevano che erano venuti dal nord, anche se non ce l'hanno detto, però poi con la fine della loro civiltà si perde questa memoria, il povero Platone secoli dopo non capisce come mai l'Atene dei suoi antenati non coincideva più con l'Atene dove viveva lui. Ecco, perciò si perde la continuità storica, però i poveri omerici continuano a galleggiare, però da memoria storica dei micenei che sicuramente li tenevano in gran conto perché era la memoria dei loro antenati, tutta la mitologia greca in realtà a questo punto diventa la memoria degli antenati dei greci, dei loro antenati nella patria perduta, a quel punto tutta la mitologia greca diventa mito, cioè non è più un ricordo storico ma è un mito nel paese di chissà dov'è, al di fuori dello spazio e del tempo. Il mito non è più storia, è una palla qualsiasi che si sono inventati, invece tutto quello che vi sto dicendo adesso dimostra che è storia. Poi nell'VIII secolo a.C., quando ormai la civiltà greca era nell'età arcaica, viene inventata la scrittura alfabetica, alfabeta gamma, cioè le lettere dell'alfabeto, che è ottima anche per trascrivere la poesia, i poemi omerici che siano tramandati oralmente fino ad allora, in maniera molto precisa però, sfruttando l'esametro, cioè sfruttando la cadenza della musica, insomma la poesia serve a ricordare meglio, no? La vispa Teresa aveva tra l'erbetta a volo sorpresa gentil farfalletta, questo me lo diceva mia nonna, qui l'aveva detto sua nonna, e così si ripete, altrimenti se invece lo dici in prosa dopo un po' te scordi tutto. Insomma in pratica nell'VIII secolo a.C. vengono messi per iscritto e a questo punto nascono in via dell'Odissea come le conosciamo adesso. Vi dico velocemente le avventure di Ulissea che non sono nel Mar Baltico, ma invece sono localizzabili dove? Nei luoghi dove poi troviamo Ulissea alla fine, Ulissea alla fine lo troviamo nelle isole Faroer che stanno in mezzo all'Atlantico, cioè sono lungo le coste atlantiche della Norvegia, anche nell'estremo nord, e questo vuol dire che sono un ricordo anche di tempi più antichi quando anche nell'estremo nord faceva più caldo, tra pochino lo vedremo anche, e così anche per esempio anche il fiume oceano che circonda la terra secondo i miti omerici non è altro che il ramo più orientale della corrente del Golfo, la corrente calda che arriva dai Carabbi attraversa trasversalmente l'Oceano Atlantico, poi l'altezza dell'Inghilterra si divide e una parte lambisce le coste norvegesi arriva fino all'Artico, rendendole più calde di quanto non dovrebbero essere. I ciclopi dell'Odissea, secondo una mappa del 1000 d.C., si trovavano addirittura in Scandinavia, vedete i ciclopes accanto all'insula ciclopum, l'isola dei ciclopi, questa è una mappa del 1080 di Adamo di Brema, che già colloca i ciclopi in effetti in Norvegia, però in questa stessa mappa troviamo la terra Feminarum, che sarebbero le Amazzoni, come dice l'ottestadamo di Brema, le quali nel sesto libro dell'Iliade combattono contro il re Priamo, Priamo re di Troia, perciò stavano nel Baltico, per cui già nel 1000 d.C. ancora c'era la memoria storica, che le avventure d'Ulisse stavano lungo la costa settentrionale della Scandinavia, verso l'Oceano Atlantico, mentre invece le Amazzoni, cioè quelle che combattono con Priamo e Troia, stanno sul Baltico, vedete come a migliaia di anni di distanza ancora si ritrova la stessa storia, i ciclopi omerici ricordano i troll della mitologia norvegese, che erano o degli esserini piccoli oppure degli giganti enormi, qualcuno dei quali era con un occhio solo, proprio come Polifemo, che erano dispettosi e cattivi e fanno un sacco di malestri a noi poveri umani, mortali. Polifemo si trova tal quale in una saga nordica, è lo stesso nome della zona dove si trova Polifemo, che è il Tosa in Fiorden, ricorda il nome di Tosa che era la madre di Polifemo, pure Polifemo, anche se era brutto, aveva sta mamma che gli voleva tanto bene lo stesso, mio figlio ha un occhio solo, ma è meglio che ce ne avesse tre, insomma non lo so, come dice ogni scarrafone bella mamma soglia, andiamo avanti. L'isola Eolia, sede del re dei venti, l'isola Eolia era una delle Shetland, a proposito tra poco ricomincia la serie Shetland dei gialli, che è uno dei migliori gialli che ci fanno in televisione, gli altri sono un po' così, ma mi pare che sia lunedì 14, una cosa del genere, mercoledì in effetti mi piace molto, e sono bellissimi i paesaggi delle Shetland e lì c'era l'isola Iella delle Shetland, probabilmente l'Eolia, ci sono tutta una serie di colcomitanze con i venti, i redeventi eccetera eccetera, non solo, ancora oggi, cioè un secolo fa, i marinai delle Shetland comprano i venti sotto forma di fazzoletti e spaghi annotati da vecchie che pretendono saper governare le tempeste. Si dice che all'Earwick, che è la vita dello Shetland, ci sono vecchie meggere che vivono vendendo i venti, questo dice Frazen nel ramo d'oro, ma non è altro che il mito di Ulisse con la sua botticella con i venti, che si ritrova proprio nell'isola Iolia, cioè Iel. Nelle terre delle Strigoni ci sono giornate lunghissime perché Ulisse sta andando sempre più con la sua nave verso nord, verso il circolo polare, e c'è il fenomeno della notte bianca, ma ancora più in là c'è Circe, dopo le Strigoni Circe, che in effetti si trova nell'estremo nord, oltre il circolo polare. Infatti quando Ulisse sbarca nell'isola di Circe, dice ad esolata i suoi compagni, è come un allenatore che stanno perdendo 3-0 dopo il primo tempo, dice ragazzi qua è andata male. E Ulisse qui non sappiamo più dove il sole sorge e dove tramonta, gente abituata a basarsi sull'est e sull'ovest, sto povero sole che gira attorno all'orizzonte senza scendere mai, è una gran fregatura, perché a questo punto non si orientano più, siamo nella terra del sole di mezzanotte, perciò a nord del circolo polare. Ecco, e d'altra parte l'isola di Circe è un'isola artica, Circe, la maga, la fattucchiera, viene chiamata da omero polifarmacos, che vuol dire quella dalle molte pozioni, cioè pozioni psichedeliche. Io quando parlo a dei ragazzi, spesso mi invitano nelle scuole, gli dico state attenti a ste pozioni, perché voi ragazzini vi danno qualche pasticchetta di qualche cosa e non sapete che fine fate, poi diventate come i porci che vengono trasformati in porci compagni di Ulisse, perché le droghe sappiamo bene che effetti fanno. Comunque, nell'ultima edizione di Omero nel Baltio, l'isola di Circe l'ho identificata molto bene con l'isola Soroglia, che è un'isola che sta vicina a Caponord, molto grande, molto bella, eccola, e qui troviamo nella parte più a sud la zona di Circe, la parte più a nord addirittura quella di suo fratello Eta, quello del Bello Doro, erano fratelli perciò stavano allo stesso posto, però quando poi ne sono andati nel Mediterraneo, Circe è finita sul Martirreno al Circeo, Eta è finita nella Colchide che si trova nell'estremo oriente del Mediterraneo, si trova dopo il Mar Nero, e vedi caso, anche qui c'è una doppia cosa, perché alcuni sono scesi passando per l'Atlantico e altri sono scesi per i fiumi così, infatti troviamo una Iberia che è la penisola Iberica che sta all'estremo ovest del Mediterraneo, che è la Spagna e il Portogallo, e poi c'è una Iberia che sarebbe la Colchide che sta all'est del Mar Nero, nessuno ha mai capito per quale ragione, hanno lo stesso nome ma è chiaro, perché era lo stesso popolo che ha fatto di qua o di là, bene andiamo avanti, e poi per arrivare poi alla terra dei morti, Circe dice che la casa di Ade c'è dove c'è, ci sono due fiumi sonanti, la Cheronte e il Pirifleggetonte, e c'è una grande pietra dove poi Ulisse farà il sacrificio per evocare i morti, ma cos'è sta pietra? Me l'ha indicata un amico norvegese, si chiama Simalango ed è una pietra alta 30 metri che veniva adorata dai Lapponi fino a pochi anni fa, una pietra sacra, ha la confluenza di due fiordi, ecco perché fiumi sonanti, perché sono due fiumi che però essendo dei fiordi quando il mare si alza fanno rumore, invece il fiume in genere scorre silenziosamente, e i loro nomi nel dialetto sami corrispondono a quelli dell'Acheronte al Pirifleggetonte, Pirifleggetonte, Puru Uono, e quell'altro Yecher Wotna, Yecher Acheron, Puru Pir, cioè sarebbe il fiordo del fuoco e il fiordo del ghiaccio, e c'è Simalango in mezzo, esattamente come, cioè torna tutto, guardate, io non vi dico tutti i dettagli perché sennò faremmo notte, eccolo qui, purtroppo dopo che è uscita l'edizione tedesca del libro, per trovare questo Simalango è difficilissimo perché hanno cancellato tutti i siti in cui c'erano queste cose, ne ho trovato solo uno, lo potete trovare anche voi perché è un norvegese che lo mette nella sua cosa privata di Facebook, c'è Simalango ma altrimenti è sparito tutto, chissà perché, andiamo avanti, il gorgo di Cariddi, Cariddi non è altro che il famoso Maelstrom, se qualcuno ha letto 20.000 leghe sotto i mari sa che c'è un grande mulinello che assorbe le navi nell'estremo nord vicino all'isola Lofoten, una delle cose più carine che mi è capitato di fare in questa ricerca, ecco il Maelstrom, che è quel grande gorgo, è che la descrizione che Omero fa di Cariddi combacia in una maniera straordinaria col racconto la discesa nel Maelstrom di Edgar Allan Poe, se ve lo trovate la discesa nel Maelstrom, la descrizione che fa Poe è identica a ciò che dice Omero di Cariddi, ecco sullo sfondo del Maelstrom spunta la silhouette di un'isola a tre punte, ma tre punte vuol dire Trinachia, l'isola del sole Iperione, e anche qui su questo sole Iperione si sono dannati l'anima per secoli, chiunque ha fatto il quarto ginnasio sa che Iperion vuol dire super, Iper vuol dire al di sopra, super, Iper in greco, super in latino, over in inglese, Ion è il participio presente nel verbo Emi che vuol dire andare, quello che va al di sopra, cos'è il sole Iperione? Non è altro che il sole che va al di sopra dell'orizzonte durante l'estate, cioè è il sole, e infatti in tutti i passi in cui si parla di sole Iperione si capisce che è proprio quello, è il sole di mezzanotte di cui parla Omero, insomma abbiamo quasi finito questa parte e poi dopo faremo le ultime due molto velocemente, nel racconto di Omero si trovano tutti i fenomeni tipici delle alte latitudini, le notti bianche, il sole di mezzanotte, le danze dell'aurora, queste non ne ho parlato per fare prima, le tenebre del sostizio d'inverno, le aurore boreali e le anomalie nelle fasi lunari, tutto questo lo troverete nel libro, e infine Ulisse scampa al male, Strom arriva finalmente a Ogigia che si trova nelle isole Faro, ma noi ricominciamo certo da capo a fare questo giro, ecco, e questa è una immagine ancora di Ogigia fatta dal terrazzo di un mio amico con cui abbiamo preso un caffè una sera e c'era proprio la notte bianca e vedete anche il vaporetto lì davanti. In tinte di possiamo dire che le informazioni geografiche del mondo americo trovano la loro collocazione in alcuni raggruppamenti, l'abbiamo visto, il mondo di Itacast nelle isole danesi, il mondo di Troia nella Finlandia meridionale, il mondo degli Achei lungo le coste baltiche, le avventure di Ulisse sono tra le coste atlantiche e le isole della Norvegia. In ciascuno di questi ambiti corrisponde ai contesti individuati al nord dell'Europa per geografia, morfologia, clima e toponimi, considerando anche le innumerevoli assurdità della tradizione dell'ambientazione mediterranea che ci hanno fatto credere fino adesso che Ulisse è un poeta e non è un geografo, ha la faccia del geografo, ci ha lasciato un trattato di geografia straordinario. Infine questa è la cosa conclusiva di Omero nel Baltico, tutto ciò potrà avere nuovi orizzonti che riguardano gli studi sulla protostoria e gli origini e sviluppi di tutta la civiltà europea le cui origine potrebbe essere anticipata di ben mille anni. Omero potrebbe ispirarci, e questa però è solamente una pia speranza, una nuova idea della vecchia Europa simboleggiata dai capitelli ionici dell'ereteo, basata sulla nostra eredità culturale e sulla memoria delle nostre comuni origini, speriamo bene che Dio ci aiuti. Queste però sono le otto copertine delle otto edizioni all'estero di Omero nel Baltico, l'ultima, la più bella di tutte, è stata fatta in Spagna, adesso in Spagna mi faranno anche la traduzione dell'altro libro, però per introdurre l'altro libro, lo farò molto più in fretta, l'andamento del clima negli ultimi 6.000 anni, come vedete abbiamo un periodo molto caldo durante la preistoria, questo è solo qualitativo, quantitativamente le cose stanno anche un po' diverse, sono un po' spostate all'indietro, c'è stato un periodo caldo preistorico, poi freddo, poi un periodo caldo medievale, poi un grande freddo tra il 1300 e il 1800, da cui per fortuna siamo usciti fuori perché i periodi caldi sono i più favorevoli per la vita umana, animale e vegetale, se poi volete ve lo dico pure, sperando che non mi arrestino nel frattempo, e poi infine adesso la temperatura sta salendo nuovamente. Allora, in Omero vi sono le tracce di un mondo molto più antico, che è l'oggetto dei misteri della città megalitica in cui parlo di tante cose diverse, qui accenneremo un paio di cose, cioè in Omero, soprattutto nelle avventure di Ulisse, si parla di un mondo molto più antico, allorché l'ottimo climatico, quel periodo più caldo della preistoria, rendeva abitabili quelle plaghe ora desolate, perché lì c'è la Tungra, dove un tempo forse fiorì la civiltà primordiale degli indoeuropei, era l'epoca della città megalitica a cui ho dedicato la ricerca specifica, questa qui. Tale civiltà tra il Neolitico e la primità del Brodo ha disseminato enormi monumenti di pietra simili tra loro su tutti i continenti, su tutti i continenti, incrociando le attuali conoscenze scientifiche con quanto emerge dai miti, leggende e folclore di tutto il mondo, che è quello che ho fatto, si può individuare alla sua sede originaria, cioè dove era la famosa isola Atlantide di cui parla Platone, che non è altro che questo, e delineano i tratti salienti quali la navigazione, le tecniche del fuoco e l'astronomia, con il culto delle pleie e della madre Terra. Ciò consente di risolvere quesiti millenari, per esempio il nome segreto di Roma, qui accenneremo un attimo, perché l'urbe si trova su sette colli, anche Gerusalemme, la Mecca, Bisanzio, Teran, Macao, in Cina, tutte su sette colli, come le sette pleiadi, e fu fondata il 21 aprile perché c'è una ragione, qual è la soluzione dell'indovinello di Sansone, questo non ve lo dico, lo devono pubblicare adesso su una rivista di sfilologia, dove stavano i campi elisi, lo accenneremo pure, cosa c'è di reale nel mito di Atlantide, questo non ve lo posso dire, lo leggerete sul equilibrio, dove si trovavano le colonne d'Ercole collegate al porto dallo stretto in bocco, da dove secondo Platone le navi in tempi remoti partivano verso un continente oltre l'Atlantico, in realtà le colonne, e questo lo accenno subito, erano un allineamento di enormi menhir affacciati sul golfo del Morbian, in Francia, nei pressi di Carnacche in Bretagna, una delle aree di megaliti più grandi del mondo, eccolo, ecco il golfo del Morbian sulla costa atlantica della Francia, accanto al sito megalitico di Carnacche, al cui in bocco vi è l'allineamento di menhir corrispondente alle colonne d'Ercole, infatti Platone parla proprio delle colonne d'Ercole in corrispondenza di questo posto da cui si partiva per andare verso il continente che sta dall'altra parte dell'oceano, cioè l'America, ecco. Da qui i navigatori preistorici partivano verso il golfo del Quebec, sulle coste dell'America, da dove, e questa è la ragione per cui andavano fino a lì, risalendo il fiume San Lorenzo raggiungevano le miniere di rame dell'Isla Royal sul lago superiore, attive da quasi 6.000 anni. C'era in tempi preistorici, quando il clima era più caldo, un import-export di rame, questo lo vedrete nel libro, che praticamente portava il rame delle isole del lago superiore in America, davanti alla costa canadese, in Europa. Di questa incredibile rotta risalente a una reposta pre-storia ci dà una bella conferma allo scrittore greco Plutarco, perché Plutarco ci parla di quest'epoca antichissima in cui avvenivano queste cose, ci dà delle indicazioni geografiche straordinarie. Qui adesso accenno nei misteri della civiltà megalitica, parlo del fatto di Ovidio relegato a Tomi, ve lo dico in quattro parole perché qui ormai sono un pochettino più tardi e poi vi vorrei parlare infine di un'altra cosa ancora, in pratica studiando la storia di Ovidio ho capito come c'è una relazione che ad Ovidio costò l'esilio, perché non lo doveva dire, tra i primordi della fondazione di Roma e le sette pleiadi. Le sette pleiadi corrispondono ai sette colli di Roma, ma non perché i colli fossero artificiali, ma semplicemente perché le mura serbiane probabilmente furono scelte in maniera tale che alcuni picchi dei 10 o 15 picchi che stanno al centro storico di Roma, ormai non si vedono più perché è tutto coperto praticamente, alcuni dei picchi somigliavano nella loro collocazione sul territorio, erano un riflesso delle pleiadi, ciò che è in basso è uguale a ciò che è in alto, lo dice anche il padre nostro, come in cielo così in terra, la stessa cosa, questo concetto, ermete, ermete, la tavola di smeraldo, la tavola smaragdina, ecco perciò praticamente detta in breve riusciamo a scoprire come la stella maglia, che è la centrale delle pleiadi, chiamata da Cicerone la sanctissima maglia, era il palatino, era proprio il palatino, che sta al centro, e perciò il nome segreto di Roma, come appare da tutti questi discorsi, era proprio maglia, maglia era la dea protettrice di Roma, come Atena era la dea protettrice di Atene, però non si doveva dire per ragioni di scongiuri, che poi scrivo pure nel libro, adesso non ve li sto a dire, però a questo discorso è collegato anche il 21 aprile, perché le pleiadi fanno parte della costellazione del toro, e la costellazione del toro presso i mesopotamici era anche chiamata la costellazione delle pleiadi, e per convenzioni mesopotamici il primo giorno delle pleiadi, lo chiamavano il giorno della salita delle pleiadi, era il primo giorno del mese del toro, che giorno è il primo giorno del mese del toro, il 21 aprile, per cui abbiamo la doppia connessione, abbiamo la doppia connessione, sia del layout dei sette colli di Roma fatti combaciare apposta con quello che era le sette pleiadi in cielo, e l'aspetto invece cronologico del 21 aprile come data di cui salgono le pleiadi, cioè il giorno consacrato alla fondazione di Roma, il giorno in cui le pleiadi, che sono le protettrici di Roma, salgono. D'altra parte ci sono anche singolari convergenze tra il mondo romano e quello mesopotamico, tra vari esempi pensiamo all'analogia tra la nascita di Romolo e quella del grande re Sargon, fondatore del regno di Accad, che era figlio di una sacerdotessa e di un padre sconosciuto come Romolo, fu abbandonato sul fiume in una cesta come Romolo, fu salvato da un acquaiolo chiamato Acchi, infatti Acca è la nutrice che nutre due gemelli quando li salvano, successivamente suo figlio Rimush venne ucciso e fu soppiantato dal fratello. Rimush lo conosciamo, è Remo, perciò il mito di fondazione di Roma, con Romolo e Remo è un mito mesopotamico. D'altra parte a Roma c'erano le calende, le nonne e le idi erano i giorni tipici del calendario romano e corrispondono al primo, al settimo, al quindicesimo giorno del mese che sono esattamente i giorni particolari del mondo mesopotamico. Così anche nel sito neolitico di Monte d'Accoddi, nel nord della Sardegna, avevano creduto di scavare un nuraghi, hanno scavato una zigurra mesopotamica e io mi sono accorto che molti nomi di località di quella zona sono nomi mesopotamici, per cui per esempio Uri, è una località a 15 chilometri a Monte d'Accoddi, è Ur, Usini sarebbe Isin, Senori sarebbe Sennar, la terra di Sennar, Samassi, Shamash, il dio mesopotamico del fuoco, se qualcuno di voi origine sarda, se i nomi li conosce. D'altra parte gli sfassonis, le barche di giunchi di Santa Giusta, del lago di Santa Giusta, o stagno di Santa Giusta, sono uguali a quelle usate dai sumeri e anche dagli aimara che si trovano in Sud America e c'è un link strettissimo tra i sumeri e gli aimara di cui parlo anche, qui non faccio in tempo, a parlare del fatto che sumeri e aimara sono probabilmente figli della stessa madre e anche i sumeri e i celti sono molto collegati tra loro, di cui la curiosa assonanza tra celti e caldei, caldei, celti è la stessa parola e ne troviamo molte altre con cui finora nessuno aveva mai riflettuto. Si può anche capire il motivo per cui il povero Ovidio si lasciò scappare questa correlazione che doveva rimanere segreta, per questo poi venne condannato all'esilio, infatti lui dice che non lo può dire perché fu condannato all'esilio, perché lui era nata Sulmona, Sulmona ai piedi della Maiella che è un massiccio montuoso dedicato da tempi preistorici alla dea Maia, infatti ci sono molti resti megalitici lì, ma Maiella è Maia. Ovidio quando giovane provinciale arrivò a Roma non gli parveve a un certo punto di scoprire che la dea della sua terra, che era Maia, era anche la dea della grande Roma e lo disse e per questo venne mandato in esilio. Comunque, però è molto interessante che ci sono molte antiche città su sette colli, Zevenbergen in Olanda con tracce di attività umana risalenti all'età del bronzo, Besançon la celtica Besançon, antico nome celtico in Francia, Bruxelles in Belgio, quella che noi amiamo tanto per i suoi decreti attualmente, Bamberg in Germania, Vilnius in Lituania, Pola in Croazia, Bergamo e Cagliari e altre ancora, ce ne sono molte altre. In diverse di questa città uno dei sette colli è intitolato San Michele, i cui santuari spesso sorgono in località in cui sono presenti vestigia megalitiche, infatti la spada di San Michele è un altro argomento di cui parlo nel libro sui misteri della città megalitica. Su sette colli si trova anche Armag, la città sacra dell'antica Irlanda, il cui nome deriva da Ard Maca, la collica madre di Maca. Maca era la grande idea corrispondente a Maya, ma Maca la ritroviamo anche in altri posti. Per esempio la Mecca, io stesso non sapevo fino a un po' di tempo fa, che si chiama Maca in arabo. Maca e Maca, Mecca, la Mecca sta su sette colli e uno dei sette colli si chiama Abu Maya, perciò la Mecca è molto più antica. Questa Maca che si ritrova in Irlanda e si ritrova alla Mecca, cioè alla Maca dei sette colli, dove la ritroviamo anche Maca, era la dea della terra dei Siullacota, pianure americane che poi a loro volta hanno dei miti similissimi, sempre riguardanti le pleiadi, agli aborigini australiani del Liars Rock, che si trovano sbattuti in fondo all'Australia. Vedete che abbiamo un quadro di una civiltà megalitica preistorica che abbracciava tutto l'intero mondo. Questo è il bello. La sua memoria di questa civiltà megalitica basata sulla navigazione, come hanno trovato gli ultimi studiosi del megalitismo, studiosi accademici, è stata trasmessa da Platone attraverso il mito di Atlantide. Ecco Atlantide. Infatti, e questa è l'ultima cosa che vi dirò adesso, parliamo un attimo di Polinesia e poi dopo la faccio finita. Insomma è passato a poco più di un'ora, più o meno sono rimasto nei tempi, ormai è quasi finita, ma questa che vi sto per dire è una cosa veramente bella. In quell'epoca remota, quando c'era il periodo caldo preistorico, ah, in quel periodo caldo vi dico solo una cosa, nell'estremo nord a causa del caldo non c'era più la squallida tundra di muschi e licheni, ma rigogliose foreste di abeti arrivavano fino al mare artico che d'estate era squagliato perciò era navigabile. Rigogliose foreste di abeti viene di scogliattoli, di orsi, di animali, non alla tundra dove in pratica non c'è niente. Nel contempo, e questo lo potete vedere su internet, non sono balle che mi invento io, nel contempo il deserto del Tassili al centro del Sahara, che è uno dei deserti più infami del mondo, che non ci sono solo tre scorpioni, era una bellissima savana con leoni, gazzelle, eccetera, come mostrano i graffiti di rubesti del Tassili, per cui i periodi caldi sono quelli più favorevoli alla flora e alla fauna, perché il periodo caldo al nord squaglia il ghiaccio e permette il risorgere della vita, che se no è congelata in un fritzer. Nel sud, dato che c'è più evaporazione, piove di più, e infatti un paio di anni fa un premio di Formula 1 in Arabia, che al tempo dei Romani era l'Arabbia Felix, l'Arabbia Fertile, adesso è un deserto, ha piovuto e hanno interrotto la corsa, perché sta ricominciando finalmente a piovere, certo, qui da noi che siamo in una zona, sta diventando zona subtropicale, bisognerebbe fare grandi invasi d'acqua, perché dato che ci saranno periodi di siccità e periodi invece di grandi piogge, dobbiamo evitare di crepare di siccità e poi di essere dilavati dalla pioggia eccessiva, perciò i veri soldi da spendere dovrebbero essere fare invasi per regimare le acque, tutte le altre sono, scusi il termine, fregnacce, che forse conveggono a qualcuno ma non certo a noi, speriamo di non, se domani mi sono suicidato non ci credete, io non mi sono suicidato, non ho nessuna voglia di crepare da solo, mi ci devono buttare di sotto. Va bene, allora, ogni tanto mi incavolo pure io, va bene, in quella epoca remata il clima, più caldo di quella attuale, durante l'estate consentiva di navigare per il mare artico collegando l'oceano Atlantico nel Pacifico attraverso lo stretto di Bering, una navigazione costiera facilissima, praticamente passando sopra la Gruellandia e sopra il Canada che era più caldo di adesso, si arrivava a Bering e poi da lì c'era l'Aliseo che ti portava direttamente all'isola Hawaii, direttamente. Infatti nelle isole polinesiane, questo non viene detto, gli esploratori europei hanno trovato uomini bianchi, alti e biondi, nonché miti, leggende e monumenti megalitici, similissimi a quelli del vecchio mondo. Questo lo dicono accademici, non mi sono inventato niente. C'erano uomini bianchi, biondi, alle isole Marchesi che sono uno degli arcibelli più sgarrupati della cosa, ma questo è il quale niente. Addirittura si ritrovano miti che corrispondono straordinariamente alle avventure di Ulisse nell'Odissea, nonché alla vicenda di una regina simile a quella di Elena, costeria, pita nella baglia di Ilo dell'isola Hawaii, dopo una guerra analoga a quella di Troia, ritorno a casa 18 anni dopo, come capitò a Elena secondo quello che diceva l'Odissea. D'altronde Ina, grande dea polinesiana, identica a Ino Leuquotea, la dea bianca, che salva Ulisse dalla tempesta. Non vi sono molte altre che corrispondere. Tra l'altro Ina in lingua polinesiana vuol dire proprio bianco, perciò Ino Leuquotea, Ina, la dea bianca, vuol dire Ino e Ina, che sarebbe il bianco e il polinesiano. Il nome della danza polinesiana chiamata Hula, quella lì carina, no? Il nome a schietti ci piace in genere, la manca polinesiana, o Ura, poi si chiama Ura, non è altro che il greco Chorus, danza, e a Tahiti il nome della danza tipica è Horitaiti, Horitaiti è identico a Chorus, Choreutica, la danza. Inoltre la Hula è accompagnata da canti chiamati Mele, nome identico al greco Melos, che vuol dire canto-canzone. Così pure la nota formula di saluto Aloa, che è tanto carino sentirsi dire Aloa dalla polinesiana, Aloa è molto simile al nordico Alu e al latino Vale, con la caduta della V, Ale, Aloa, ma colpisce anche il nome degli Ari, i nobili polinesiani, considerati discendenti delle antiche divinità polinesiane. Inoltre in Polinesia si ritrovano i miti del diluvio della torre di Babele, e non solo. Rono o Rongo, il dio polinesiano dell'agricoltura, figlio del cielo e della terra, corrisponde al greco Crono e anche a Saturno, il dio latino, Rono, Crono, relegato da Zeus ai confini del mondo. E qui c'è da chiedersi se sia casuale l'assonanza tra Crono e Rono. Secondo Omero, ai confini del mondo si trovano anche i campi Elisi, menzionati in una profezia fatta a Menelao. Non è tuo destino morire ad Argo, ma gli immortali ti condurranno ai campi Elisi, ai confini del mondo, dove si trova il biondo radamanto e per gli uomini la vita è molto facile. Non vi è mai neve, né inverno né tempesta, ma l'oceano manda sempre le folate di Zefiro che soffia sonoro per rinfrescare quegli uomini. È un mondo paradisiaco dove c'è un bellissimo vento fresco. Ora, il clima delle Hawaii è caratterizzato proprio da un piacevolissimo vento fresco chiamato il condizionatore d'aria delle Hawaii, se voi guardate nei siti americani, l'aliseo che soffia quasi per tutto l'anno, che i campi Elisi si trovassero nella baia di Ilo, nell'isola Hawaii, in cui regnava Rono Crono, e il clima è tra quelli che offrono le condizioni migliori per la vita umana? La conferma ce l'ha da Pindaro, quinto secolo avanti Cristo, secondo cui Crono regna con Radamanto, laddove attorno all'isola dei Beati, spirano le brezze dell'oceano e fiori d'oro risplendono da alberi bellissimi. Quei fiori d'oro, antemacrisù in greco, che sbocciano sugli alberi, alludono all'ibisco avaiano, arbusto che produce un fiore grande e bellissimo, è un ibisco, brava, dallo splendido colore giallo-dorato, che a partire dal 1988 è ufficialmente il fiore di stato delle Hawaii, bellissimo, addirittura a 15 centimetri di diametro, è un fiore meraviglioso, subito dopo Pindaro aggiunge che quei fiori d'oro sono, tradotto letteralmente, per coloro che intrecciano le mani con ghirlande e corone, secondo le indicazioni di Radamanto. Così ci regala un'immagine meravigliosamente avaiana, nella quale Radamanto ci appare addirittura in veste di maestro di danze. I campi elisi della mitologia greca forse corrispondono anche ai campi di giunchi egizi, il paradiso di Osirido, dove giungono le anime delle funti che hanno superato la prova della pesatura del cuore, dopo aver affrontato un viaggio per nave lungo e rischioso. D'altronde, due delle più importanti dività polinesiane, Horo e Ra, il dio del sole, hanno nomi identici agli dei egizi Horus e Ra, che è il dio del sole egizio. Inoltre in Polinesia si praticava in certi casi la mummificazione e per di più il calendario polinesiano di 12 mesi di 30 giorni più 5 giorni aggiuntivi è identico a quello egizio. Non solo i polinesiani chiamavano l'anima dell'uomo e lo spirito degli antenati Ko e Bao, identici al Ka e al Ba degli antichi egizi. Cioè gli antichi polinesiani avevano tuttora una cosa degli antenati, sia degli egizi che dei greci, di un'epoca predinastica, dell'epoca che c'era l'ottimo climatico che permetteva i grandi viaggi transoceanici, prima dell'antico Egitto, prima della prima dinastia egizia e prima che i greci si trovassero poi nei luoghi dove si trovano adesso. Inoltre secondo Diodoro Siculo su una stella dedicata a Osiride stava scritto, mio padre Crono, vedete Osiride e Crono, Osiride è il signore dei campi di giunchi egizi, Crono si trova nei campi Elisi con Radamanto che stanno sempre lì, perché è la stessa civiltà. In pensione. In pensione, è una bella pensione. In pensione, è quello che fanno tutti. Ragazzi, tutti i maschietti vanno in pensione. Io sono il re Osiride che ha fatto spedizioni percorrendo tutta la terra, non vi è il luogo del mondo abitato dove io non sia arrivato. Questa potrebbe essere l'ultima memoria di un'epoca corrispondente all'età megalitica, anteriore alla civiltà egizia. Qui siamo a 4-5 mila anni prima di Cristo che già c'era l'ottimo climatico. D'altronde, un recente studio sul megalitismo attesta l'esistenza di un'avanzata tecnologia maurittima e della navigazione nell'età megalitica, come c'è la professoressa Paulson. Insomma, questa è l'ultima diapositiva. Torniamo al biondo Radamanto. Il suo nome è identico al termine islandese Radamandur, che vuol dire, l'islandese di oggi, persona eminente, persona importante. Il mio amico danese mi ha detto che Radamand in danese vuol dire consigliere, personaggio importante anche lì. E ciò ben si accorda con un antichissimo contesto nordico, perciò ritorniamo a quello che dicevo prima sugli antenati degli Achei che si trovavano nel nord, precedente alla discesa degli Achei e degli Elleni nel Mediterraneo. Dunque i campi elisi corrispondono alla bellissima pianura che si estende intorno alla Baia di Ilo sull'isola Hawaii, rinfrescata dall'aliseo tipico di quei luoghi e impreziosita dai fiori dorati dell'ibisco avaiano, che tuttora adornano i capelli delle discendenti di coloro che in tempi remoti intrecciavano le mani con ghirlanda e corone sotto i consigli di Radamanto, beato lui. E dunque in questa Baia Polinesiana che finalmente abbiamo ritrovato il nostro Radamanto, ormai forse un po' ingrigito per gli anni, nella sua ventosa isola ai confini del mondo. Grazie a tutti. Se dunque solo una piccola cosa, questa cosa su Radamanto e sulle isole dell'Aguai che sarebbero i campi elisi, insieme con il mio amico Arduino Maiuri che è un filologo professionista, facciamo sempre le cose perché lui poi mi mette tutte le note, mi fa tutto il lavoro praticamente per rendere pubblicabile un testo e poi conosce tutti quanti, l'abbiamo mandato ad una rivista internazionale in inglese. Questa rivista e queste riviste in genere impiegano da sei mesi a un anno per fare tutto il tragitto perché si prendono il primo testo, poi lo fanno correggere, poi fanno il peer review, poi una cosa, poi un'altra, dopo un anno circa hai il testo pubblicato, se te lo pubblicano perché spesso non te lo pubblicano. Il giorno stesso che io ho mandato sta cosa a questi qua, che altre volte mi hanno fatto penare per mesi, era la norma, mi hanno chiesto subito di fare l'iscrizione, io l'ho fatta, dopo venti giorni c'erano già i dati del peer review, fai questo, fai quello, cambia questo, cambia quell'altro, l'abbiamo fatto io e Dino in tre giorni, gliel'abbiamo rimandato e dopo un'altra settimana, cioè dopo un mese complessivo, l'avevano già pubblicato. Poi è una cosa a razzo proprio perché si vede che gli aveva, se può dire, siete maggiori, aveva arrapati moltissimo sta cosa del Radamanto e del Fiore d'Oro, ecco tutto qui. Questa è una rivista greca che però pubblica Athens Journal Mediterranean Studies di una rivista, di una istituzione greca molto importante nel campo culturale che scrive, che pubblica tutto in inglese, perciò sta facendo il giro del mondo, però la velocità con cui l'hanno fatto mi fa pensare che gli è piaciuto proprio tanto e comunque grazie ancora per essermi stati assistiti. Grazie. Grazie. Grazie.